Questo bombardamento infernale, il rumore, il fumo... Non ho mai sentito un simile cannoneggiamento. Ci avvolge con un mare di fiamme, che sembrano non avere fine in ogni direzione. Questa è una guerra nuova, ragazzi. Fate attenzione. Loro li chiamano assaltatori, i crucchi migliori. Hanno ordine di uscire dalle trincee e di piombarci addosso. Bisogna concentrarsi sulla propria baionetta, immaginar la spinta nel cuore dei crucchi, fino all'ultimo nemico! L'attacco tedesco è imminente. Questi sono gli ordini. Le trincee della linea blu devono reggere. Se il nemico avrà la meglio, ripiegheremo sulla fattoria Ventur, qui. Qualora anche questa posizione saltasse, ci ritireremo nel villaggio di Travsee. Se sfonderanno, dovremo fermarli ai mulini. Altrimenti i tedeschi non avranno altri ostacoli e potranno raggiungere Amien. Carro, attenzione! Noi! Un kit sentinella è disegnato. Un kit è disponibile vicino alla tua posizione. Granata partita! Un kit è disponibile. Ritornitore nemico, individuato. Cassetta medica per te. Cassetta medica per te, amico. L'obiettivo alfa. L'obiettivo è stato preso per te, amico. L'obiettivo alfa. Medico nemico! No! La! Una mitragliatrice nemica! Cassetta medica! Arriva! Non abbiamo conquistato l'obiettivo. Posso curarti? Fai attenzione! Occhio! Lascia il secchino! Dai fuori! Attenzione! C'è un ricognitore! Quel ricognitore è uno dei loro! Abbiamo perso l'obiettivo bravo! Abbiamo perso l'obiettivo! Medico nemico! È là! Che si dice? Aspetta medico! 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 Laggiù! Abbiamo perso l'obiettivo alfa! Dive notizie! Abbiamo perso l'obiettivo! Dive notizie! Abbiamo aperto! Sì, 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 sì. Abbiamo perso l'obiettivo, bravo. Un membro della cavalleria a piedi. Non lo so che l'obiettivo, guardatevi! Traz il dosi! Grazie a tutti Sì, gente, abbiamo vinto. Abbiamo mostrato lo spirito che ha fatto grande l'Inghilterra. Torneranno, però. Tenete pronti quei fucili e siate saldi come non mai nei vostri cuori. Il nemico ha ricevuto un dirigibile come rinforzo. Stiamo perdendo l'obiettivo alfa. Stiamo perdendo l'Inghilterra. Stiamo perdendo l'obiettivo, Charlie. Stiamo perdendo l'Unghilterra. abbiamo perso l'obiettivo bravo abbiamo conquistato l'obiettivo c'è un ricognitore assaltatore localizzato abbiamo perso l'obiettivo alfa restano 50 assalitori un'obiettivo alfa un ricognitore venuto stiamo perdendo l'obiettivo alfa stiamo perdendo l'obiettivo bravo vi siete difesi come leoni i crocchi hanno imparato la lezione hanno subito un duro colpo ma si preparano per un ultimo assalto trovatevi una buca gente e cercate di riposare in attesa del loro arrivo il nemico ha ricevuto un dirigibile come rinforzo il nemico 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 il Ascoltatori negli occhi, facciamo l'attenzione! Stiamo perdendo l'obiettivo bravo! Non ci devono riuscire a presto! Non ci devono riuscire a presto! Un ricognitore, visto? Ho individuato una mitragnatrice! Abbiamo perso l'obiettivo bravo! Abbiamo conquistato l'obiettivo bravo! Che stasera! Che stasera! Olof! Stiamo perdendo l'obiettivo Alfa! Al momento della verità! Bravo! Che stasera! Bar Ma! Sì, abbiamo perso. I crucchi ce le hanno date di santa ragione. Ma la lotta non è finita, assolutamente. Ritiriamoci da Mien, là ci prepareremo e mostreremo al nemico di che pasta sono fatti i britannici. I primi assalti della Kaiserschlacht hanno sfondato le linee britanniche, costringendo le forze inglesi a ripiegare verso Miano. Questo vitale snodo ferroviario, crocevia di tutte le truppe alleate in Francia, era il principale obiettivo tedesco. Che pensino di avercela fatta? Non conoscono gli inglesi. Quando siamo con le spalle al muro, lottiamo con fuoco, fino alla morte. Questa città a Mien non è lontana dal campo di battaglia della Somme, dove tanto sangue inglese è stato versato. Gli uomini devono ricordarsi che... Stavolta si vince o si muore. Lo sappiamo tutti, francesi, canadesi, australiani, neozelandesi, le truppe indiane e tutti i nostri alleati. Ora però, ci siamo solo noi, inchiodati qui contro i crucchi migliori. Dobbiamo difendere a Mien, costi qualche costi. Presidiamo poi il labyrinth in queste rovine. Se la posizione cadrà, dovremo ripiegare verso questo ponte, Bonneuf, per proteggerlo. Se il nemico riuscirà ad avanzare oltre, opporremo la nostra ultima resistenza a Place Longville. Altro sangue britannico sarà versato. Ma saremo noi a trionfare. Ma saremo noi a trionfare. Non è tanto, non è tanto, non è tanto, non è tanto. Se le va, se ne va. Faccio! Oh Vedo medic Oh Torna nella zona di combattimento Torna nella zona di combattimento Torna nella zona di combattimento Granata partita! Faccio la testa! Sei ferito? Ti rimetterò il sesto Abbiamo perso il settore Vuoi che ti curi? Stiamo perdendo l'obiettivo Charlie Medico nemico individuale Abbiamo perso l'obiettivo Charlie L'obiettivo è caduto Dobbiamo riprendercelo uomini Granata the shot Attenzione Stiamo perdendo L'obiettivo bravo UMM Vio! Via di qui! È cazzo! Stiamo perdendo l'obiettivo wrovo Stiamo perdendo l'obiettivo bravo. Una granata! Attenzione! Abbiamo perso l'obiettivo bravo. Abbiamo conquistato l'obiettivo alfa. Abbiamo l'obiettivo! Non fermiamoci! Non fermiamoci! Qualcuno potrebbe curarmi! Forza con la c***a! No! 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 Amien è nostra! Siete degli eroi! Tutti! Dal primo all'ultimo! Avete combattuto uniti! Ecco il segreto della forza britannica! Egg può stare tranquillo! Presto la guerra sarà vinta! Con la Germania padrona del vitale snodo ferroviario di Amiens, le forze alleate in Francia sarebbero state spezzate in due. Se Parigi fosse caduta poi, con ogni probabilità la Francia si sarebbe arresa. In quel caso, l'Inghilterra sarebbe stata costretta a cercare una tregua in attesa di elaborare una nuova strategia. Questa situazione ipotetica avrebbe sicuramente alterato l'esito della guerra. Questa situazione ipotetica avrebbe sicuramente più grande. Questa situazione ipotetica avrebbe sicuramente più grande. Questa situazione ipotetica avrebbe sicuramente più grande. Grazie.